Digital Magics è una società che investe nell'avvio di nuove imprese. In parole più tecniche, è un incubatore certificato di start-up innovative che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico e di scale-up, imprese digitali che vivono una fase di crescita e di espansione. In concreto, Digital Magics costruisce e sviluppa start-up digitali, affiancandosi ai fondatori, investendo capitale proprio e fornendo i servizi di sviluppo. Parte dai talenti e dalle idee per trasformarle in business di successo nel panorama digital italiano internazionale. Il modello Digital Magics è unico in Italia e si basa sul Digital Magics Lab, il team che identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo alle start-up innovative una serie di servizi, tra cui quelli di mentorship finanziari, amministrativi, strategici, tecnologici e di comunicazione e marketing, in grado di accelerare il processo di crescita dell'impresa. Ma non solo. Oltre a offrire i servizi e le risorse iniziali per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up, Digital Magics le supporta nella ricerca di nuovi investitori, che finanzino le successive fasi di sviluppo. La società viene fondata a Milano nel 2004 da Enrico Gasperini, tra i primi imprenditori della rete in Italia. Dal 2008 Digital Magics opera come incubatore e nel luglio 2013 si quota a Lime Italia. Oggi la società conta nel proprio portfolio oltre 40 partecipazioni in start-up, ha investito fino ad oggi oltre 16,5 milioni di euro, creando più di 300 posti di lavoro. Ogni anno Digital Magics esamina oltre mille progetti, per poi identificarne circa una decina. L'investimento medio è di circa 300 mila euro.